ciao ragazzi e bentornati su fifa carriera allenatore con la nostra udinese il suo speed superfit franci allora siamo lasciati qua che devono giocare con il torino poi torino e atalanta poi dopo la roma partite proprio semplici semplici allora ragazzi per dire di andare avanti giustamente mi sembra corretto vi spiego una piccola cosa io ho avuto dei problemi con fifa questo che state vedendo è fifa però sulla one l'ho ricoperto sulla one perché fifa che gioco prima una carriera udinese lo giocavo su pc su origin origin ha avuto dei problemi non mi carica più le partite non so come mai i salvataggi ci sono nel pc ma non me le carica più mi fa iniziare tutto da capo e allora a poca parola per recuperare questa carriera sono passato sulla one perché volevo iniziare da capo sul pc però il problema è che proprio non mi fa proprio salvare la partita quando salvo la parte amici è impossibile salvare la partita non so cosa è successo non ho idea e allora dopo è forza qua giocare qua solo sulla one allora se metti mettete il caso che vedete cosa di strano che è un esempio faccio un esempio magari ho già giocato con la roma e qua magari gioco di nuovo con la roma è per questo piccolo problema che ho avuto ok così mi sembra giusto avvisarvi e ho provato a rifare tutto il percorso uguale nel senso trasferimenti punti in classifica non è stato facile però ho fatto tutto il possibile e niente tutto qua mi sembra giusto comunque avvisarvi perché giustamente voi vedete magari mi chiama come mai ha già giocato con la roma e gioca di nuovo il campionato allora mi sembra giusto così non so come mai o i fifa o i origin che dà dei problemi o non lo so comunque detto questo direi che possiamo andare in campo con col torino e vediamo se riusciamo a vincere col torino perché poi dopo con l'atalanta sarà dura e dai ragazzi mi raccomando tanti like commenti ragazzi iscrivetevi al canale ho bisogno del vostro aiuto anche per vincere contro il torino andiamo in campo attenzione subito scambia il torino cross musso la prende tranquillamente cambia subito grandissimo scambia semma palma e sbaglia il passaggio palma il giovane difensore ma sbaglia anche il torino e che si augurano sicuramente gli spettatori allo stadio peccato sembra per abbe 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 vuoi fare da solo abbe entra abbe da solo prova il tiro abbe è grande parata nel portiere del torino ha fatto benissimo abbe può fare tutto da solo come si rifalla scambia sull'esito di questa sfida okaka prova il cucchiaio okaka grande okaka ha fatto una cosa buona okaka sottoporta e da un po che ma perché sottoporta okaka ogni tanto si perde però anche qua depolo ho fatto un'ottima cosa e qua il portiere rivediamo nala per un po l'anno non la prendeva però meglio così okaka 8 gol in serie a del primo gol dell'incontro 1 a 0 gomes come scambia okaka okaka va okaka per the pole the pole the pole the pole da lì però va a recuperare la palla grande la recupera scambia scambia the pole ottimo lavoro però grandissimo recupera the pole la lunga se ne va depolo da solo dai vai 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 mi difensore peccato forse poteva anche passare prova grandissimo proviamo è brutto tiro però però l'udinese c'è sta giocando bene dai zazzo verdi insieme qua verdi no non è verdi adesso qua attenzione questo del torino attenzione uh scambia zazzo e musso la perde tranquillamente e il numero di padrono chiaro pierdo a casa la vittoria ancora la circolazione di palla attenzione scelvi che il torino adesso si è un po svegliato esce il musso 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 esci che cavolo fa tra poi chiamano che hanno dato il calcio di rigore palma ok 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 messo, la scambio però Abe, grandissimo gioco di Abe uh, mamma mia non volevo fare così, eh, cioè non volevo fare così poi è andata così per sembra, guarda come gira però ci arriva il portiere del Torino De Paul prova lo vuole Abe Abe, Abe De Paul uh, mamma mia peccato eh, un po' difficile no, bruttissima con la difesa grandissimo, giovane Palma ancora lui esce bene scambia dai, finita, è finita ragazzi tenemo duro andiamo a bordo campo ultimo giro di lancetta è per chiudere questi 90 minuti teniamo duro grazie per l'aggiornamento Matteo ovviamente richiamaci se ci saranno novità niente il Torino non ci prova neanche 1-0 ragazzi e ci portiamo a casa tre punti molto importanti col Torino e adesso andiamo con l'Atalanta molto duro grande ragazzi abbiamo giocato un'ottima partita contro il Torino il Torino ha fatto poco non l'ha fatto tantissimo allora, prima di andare con l'Atalanta volevo andare un attimo qua nel giocatore che io volevo prendere questo qua questo qua volevo prendere io ottima promessa valore 1-8 dipende se l'Inter ce lo dà perché è un ottimo giocatore secondo me deve crescere è molto giovane italiano e secondo me si può si può fare allora ho scelto 1-8 e 2-3 allora io direi di fare 1-9 dai 1-9 me lo dai 1-9 dai dai 1-9 forse ce lo danno vediamo non è male come affetti 2 va bene va bene ci sta con 2 me lo prendo molto molto volentieri e allora tu sei giovane io ci provo con promessa vediamo un po' se meno si dovrebbe fare il panchino tutta stagione avrebbe abbastanza meno ah meno importanti controfferta proviamo turn over è perché comunque noi abbiamo anche altri giocatori che sono titolari cioè non posso metterti subito in campo titolare capito ah ok perfetto turn over va bene va bene anche per noi eh contratto io farei 5 anni me lo tengo molto molto volentieri se fa bene se no se non fa bene lo diamo via lo stesso eh non interessa perfetto non interessa neanche a me ok eh possiamo possiamo aspettare stipendio 2-9 a settimana poi un gaggio sì sì ci può stare va bene eccetto senza andare qua senza rompere le palle dai va bene direi che andiamo a fare la formazione con l'Atalanta che secondo me rimane questa qua che abbiamo vinto col Torino ci sta ehm sì ci sta va bene così e poi panchina Fofanà che poi entra magari per Gomez e ok sì sì panzo ma io direi magari cambiare ehm no beh panzo lasciamo qua così se metti perché no aspetta preferisco mettere panzo di qua se preferisco beh rimane così dalla formazione raga e ci vediamo in campo con l'Atalanta attenzione a Muriel eccolo qua tre gole tre gole perfetto uguali ragazzi 3-3 quello Muriel è più veloce di Okaka molto più veloce Okaka è più fisico ok si parte si parte Udinese Atalanta bello attenzione ancora Muriel uh Musso mamma mia stiamo già rischiando ragazzi Gomez mamma mia Gomez scambia Okaka scambia niente attenzione di questo ritmo nella seconda parte della stagione fin qui hanno impresso un ritmo infernale al campionato mettendo in mostro una comissibilità invidiabile la domanda che tutti si fanno ora è reggeranno grande Cistana grande Cistana ha tolto la palla grande scambia per Semma Semma però no da lì però Cistana vediamo se riesce a fare se riesce a recuperare ma sbaglia anche l'Atalanta non è stato un bel passaggio a spazio e l'Atalanta attacca attacca Atalanta vediamo cosa fa ora intervento panzo grandissimo panzo esce bene Semma mandragora lancio per De Paul De Paul De Paul De Paul falluto da solo uno così che peccato non ce la facciamo fregare grandissimo panzo no attenzione Atalanta esce musso mamma mia Semma Semma ancora Semma lancia il difensore arriva prima attenzione Muriel niente se ne va se ne va Muriel grande ah beh mamma mia che va a recuperare no ah beh mamma mia che ci ha salvato no mamma mia ancora musso ragazzi cosa ha fatto mamma mia mamma mia cosa ha fatto musso mamma mia che intervento cioè un bacio un bacio a musso eh mamma mia grandi applausi per musso raga qua mamma mia mamma mia deciso del difensore che non riesce a liberare è musso da qua che non si muove più da Udine grande grande Semma frega palla Semma scambia squadra offide che sembra pronta a cambiare qualcosa credo che sia arrivato il momento giusto c'è bisogno di forze fresche vai 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 prova a entrare grande mamma mia troppo c'è entrare il tiro e Gollina la prende Zappata ah no ragazzi 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 attenzione Murie no Murie Zappata che peccato ragazzi che peccato me l'ha fatto non dico un'ottima partita fino adesso che peccato comunque non è finita dai ragazzi non è finita eh Musso ha fatto quello che poteva fare ha già fatto dei miracoli no così però attenzione che sbaglia Abe Abe se ne va Abe Abe no così porca miseria Abe però Matteo quanto c'è ancora da giocare manca pochissimo per scoccare il novantesimo mancano tre minuti alla fine bene Matteo grazie dai ragazzi dai però da lì ma che cazzo fa mica c'è mia due due difensori niente caccia d'angolo è finita ragazze per questo vanno in capo forze fresche per difendere il risultato è soddisfatto direi che peccato non le cose però non si deve rischiare non staccare la spina prima del tempo contropiede dai c'è le contropiede però beh giustamente il tempo è finito di recupero che peccato ragazzi secondo me è una partita da 0 a 0 l'Atalanta ha fatto di più ha fatto molto di più ha meritato abbiamo fatto poco però che peccato davvero che peccato complimenti per il nostro portiere complimenti qua ci arrivano di nuovo il riscontro nell'osservatore allora vediamo un po' questo non mi piace questo neanche questo neanche ma l'unico è questo greco mi sembra abbastanza buono questo se gli altri lasciamo perdere e siamo sempre lì 38 punti è dura dura beccare il Napoli per andare in Europa League o il Milan è un po' difficile ci proviamo è difficile ok ci possiamo salutare qua ragazzi ci vediamo il prossimo episodio che sarà contro la Roma mi raccomando ragazzi qua tutti insieme un saluto a tutti quanti iscrivete al canale lasciate bel like e attivate la notifica alla prossima ragazzi ciao 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 Grazie a tutti.